spesso dicevano a vedrai che se vai nelle grandi città tipo londra tipo anche dublino fai fatica ad imparare l'italiano perché ci sono tanti italiani l'inglese perché ci sono tanti italiani e fondamentalmente sì ci sta ci sono tanti italiani se uno vuole puoi vivere benissimo senza parlare inglese questo non è un lavoro in italiano tutti i colleghi italiani tu fai tutto ti trovi a mangiare italiano tutto quartieri in italiano lavoro italiano sei in italia se tu vuoi vieni qua in italia se uno vuole questo non so a questo punto cosa costerà e c'era e ci sono anche molti effettivamente che sostengono di evitare di consigliano di evitare di frequentare italiani a tutti i costi inizialmente ce l'avevo anch'io un po questa mentalità qui quando sono arrivato dicevo no ma non devo proprio lasciarmi andare solo questo però secondo me è tutto troppo legato a una mentalità di di performance che uno ha cioè nel senso no devo essere performante imparare l'inglese no quindi perché si considera che l'esperienza diciamo devo tornare poi in italia prima possibile appena finito questa esperienza c'è ogni giorno conta e che sono tutte le pressioni da studente che magari uno ha o in italia dice ah gli anni passano devo fare invece lì è tutto una gestione del tempo più rilassata esatto il concetto è il conosco degli italiani ho una socialità esco con gli italiani magari ovvio che se uscissi 24 ore su 24 con un irlandese grazie che imparo l'inglese prima però voglio dire cioè chi se ne frega io mi trovo bene un attimo viversela anche con un po più di calma non è una gara cioè qui non è una gara chi impara prima l'inglese forse lo dico anche un po per giustificarmi che non lo ha però no a parte gli scherzi cioè io sinceramente preferisco magari metterci di più ad imparare l'inglese magari parlarlo appunto a modo mio però vivermi l'esperienza al migliore sereno tranquillo tutte queste cose del no ma devi per forza fare quel tipo di lavoro devi vivere lì devi parlare con quei oh cioè non è che stiamo facendo un videogame con le regole prefissate anche qui è una mentalità molto italiana quindi no del torniamo sempre lì della dell'avere per forza un percorso lineare strutturato fisso che deve essere così non puoi fare certi tipi non puoi avere certi tipi di ambizione non so se vuoi lavorare con la musica queste cose qui poi appunto come questo argomento in italia sei visto come uno che non ha voglia di lavorare fondamentalmente no sai poi è un mestiere completo più difficile di altri no è che hai capito io ho la passione che ne so uno la passione di dipingere sì vabbè però per lavoro cosa vuoi fare voglio dipingere io è però in l'irlanda se un insiste ci crede con gli anni può arrivare a fare magari professionista magari farlo part time comunque diciamo io conosco scrittori anche semi professionisti insomma c'è vengono prese un po più seriamente queste professioni non che sia facile che sia la terra dei barocchi per tutte le professioni però magari non è che sia più fattibile lavorare su questi settori qua però magari c'è una mentalità più aperta a questi settori qua quindi non mi devo sentire in colpa se magari vergognare so una vena artistica esatto quindi se il mio percorso non è perfettamente lineare ci sta anzi secondo me per come la vedo io un valore aggiunto se uno non ha un percorso assolutamente la personalità più ricca però torniamo sempre quindi ecco torniamo a il fatto di staccarsi un attimo da queste cose qui che sono proprio limitanti secondo me per per esprimersi quindi ecco questa grande linee ultimissima domanda è con in questo ambiente internazionale spesso è difficile proprio incontrare gli irlandesi veri è stato così anche per te o hai già cominciato a vedere dove stanno come vivono sono ancora un popolo poco avvicinabile allora ti avvicini agli irlandesi quando sei più insidiato nella appunto come dicevo magari hai più una routine quindi hai un lavoro hai una tua vita più o meno strutturata qui perché perché ovviamente se tu arrivi come ho fatto io nel primo periodo fai un po il turista so vai in tempo il bar vai nei pub nei punti più turistici nella movida più turistica ovviamente ci troverai prevalentemente i turisti è chiaro quindi diciamo che più ti allontani dalle cose turistiche e innanzitutto secondo me c'è anche la possibilità di viversi delle esperienze fuori da 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 quello che è il classico il classico non fruori dal classico e più lì secondo me sto notando adesso una cosa fresca che che sto vivendo in questo periodo che lì si incontra magari più l'irlandese che il turista perché appunto è per definizione se fai cose turistiche trovi turisti però effettivamente sì essendoci tanta gente da tutto il mondo nei primissimi tempi si fa fatica a capire chi sia l'irlandese c'è questa cosa qui che è un po difficile all'inizio però poi 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 ci sono eh bisogna bisogna trovare la strada e se io conosco gente che è da parecchio tempo anche persone di lingua nativa inglese che non hanno conosciuto irlandesi vivendo in centro a dublino anche negli anni quindi è una cosa che proprio bisogna sforzarsi di fare se lo si vuole però vedi anche qui sì scusa volevo dirti collegato a questo argomento che anche qui il fatto di vivere magari un po' spostati dal centro oltre al fatto appunto di avere beneficio degli affitti più economici però si ha anche questa cosa qui che io adesso dove vivo io quando vado fuori magari sono al telefono parlo in italiano mi guardano come per dire ma da dove viene questo senti che modo strano di parlare che ha quindi è molto bella questa cosa perché effettivamente sono circondato da irlandesi perché essendo magari non proprio in centro in centro sono in un punto magari in cui ci sono più le case classiche degli irlandesi e quindi qui effettivamente ne conosci ne conosci perché poi non sono curiosi magari si mettono a parlare ti vedono con la spesa in mano dove sei andato? dove che ora torni? sono cacciaroni insomma questa maniera di porsi quindi anche nel quartiere a me succedeva lo stesso non ho mai buttato in centro a Dublino e mi sono trovato sempre nei quartieri dove c'è la gente del luogo anche a condividere case i miei coinquilini erano ingherlandesi anche quello aiuta sicuramente aiuta perché tu vedi tutto dalla A alla Z a queste persone come concepiscono la vita lo vedi lì davanti a te certo assolutamente assolutamente poi impari i modi di dire che altrimenti non si sarebbero imparati diciamo che fai un upgrade di tutto della conoscenza e della lingua e poi guarda parlando di nuovo di pressioni un'altra cosa che se l'italiano si mette troppa pressione di voler fare tutto l'accento perfetto e il lavoro perfetto di dicendo bisogna considerare che i primi tempi sono così impegnativi a livello mentale perché sono tante cose che devono essere rimeste a posto il cervello deve rielaborare anche quando si dorme che se noi continuiamo a mettere peso psicologico di roba da imparare non ce la godiamo neanche perché siamo sempre scoppiati bisogna con calma dare hai detto una cosa di una verità assoluta che ho sperimentato anche io le prime settimane a un certo punto mi sono reso conto che ho detto no vabbè insomma dai calmiamoci un attimo adesso si vuole tutto subito appena si arriva esatto adesso si faccio la faccio molto semplice a dire alle persone non fatevi le pare non preoccupate io tutte le pare le preoccupazioni me le sono passate lo dici perché ci sei passato perché ci sono passato poco tempo fa quindi normale farsela però a un certo punto poi ci si rende conto di questa cosa almeno io mi sono reso conto ho detto no vabbè aspetta che provo a vivermela un attimo più serenamente e poi vedi che quasi magicamente quando te la vivi più serenamente e paradossalmente quando ti preoccupi meno le cose si sistemano perché hai anche più lucidità e anche qui diciamo l'Irlanda ha un suo ritmo se noi andiamo col ritmo italiano che è un ritmo più martellante più veloce l'Irlanda non ci permette di sincronizzarsi col suo ritmo e quindi anche le persone ci vedono come delle persone stressanti piene di problemi perché andiamo più veloce quando noi invece permettiamo alla nostra mente di entrare in quella sintonia allora siamo in sintonia naturale con le persone anche con il loro ritmo della parlata e via dicendo e allora da lì si può cominciare a dialogare davvero le persone ci aprono la porta e ci fanno vedere qual è il loro mondo ma se uno arriva con quest'ansia di conoscere di fare e dice oh che è una natura stai fuori è vero è vero assolutamente è un ritmo assolutamente e poi quando la capisci è veramente una benedizione poi io l'ho vista al lavoro questa cosa qui che io appunto un po' spirito cioè mi piace beneditare sì no che ce l'ho che ce l'ho che cosa lì che sia tutto a posto e quando vedi che insomma è un po' più tutto sereno inizialmente non è facilissimo perché dici ma sti qua si qua succede un disastro tra due ore qua c'è un casino qua invece no poi vedi che è tutto strutturato così allora ti senti anche un po' più leggero e vai come hai detto tu al loro ritmo che sinceramente non è così male non è male il loro ritmo perché a me mi ha dato il dono principale dell'Irlanda che può darti solo l'Irlanda e non altri paesi beh solo inteso tra i paesi magari dell'Europa è proprio questa riscoperta dell'umanità della lentezza quindi loro sono un popolo molto umano perché si concedono di vivere a quel ritmo che tra i pensieri lascia spazio all'essere allo scambio sincero di opinioni di idee e questo è uno scambio armonico che permette agli esseri umani di non diventare robot ma di rimanere umani quindi questa è una cosa fondamentale che si è persa totalmente dove abito qua insomma è raro trovarlo in Europa quindi loro hanno il vantaggio di avere un'economia che regge piuttosto bene quindi anche degli stipendi che permettono di fare tutto e rimanere umani senza così vivere nella propria mente avere una vita cervellotico sempre dover affermare uno status è uno stile di vita totalmente diversa bene quindi ti vedo molto contento di dove sei sì 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 assolutamente sono contento perché sì ma poi mi sto cercando di godere anche l'esperienza di poi sta facendo molto bene anche a me proprio a livello personale a livello anche di autostima no perché poi quando vedi che fai delle cose del genere che reputavi veramente per pochi no per pochi eletti che riescono a fare cadono cadono un sacco di vedi che ce la fai e dici ah forse valgo più di quello che pensavo forse forse c'ho qualcosa che che non sapevo ti faccio un altro esempio io rigardo questo di come il luogo possa valorizzare le persone in Francia ci sono Parigi così ha il magari i francesi quelli autotoni proprio e poi magari ci sono i quartieri residenziali fuori quelle che chiamano le balliere dove ci sono molte persone di etnia mista che sono francesi sì sul passaporto ma non hanno tanti diritti e sono arrivano in Irlanda perché riescono magari proprio con la lingua francese a trovare lavoro in grandi aziende come commerciali e vi dicendo e lì sono molto 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 valorizzati poi tante volte vanno in Francia a fare i commerciali diciamo in spedizione a Parigi con il bel titolo quindi dicendo ai rancesi nativi e guardate dove sono arrivati cioè talvolta è proprio il posto che non ti dà la possibilità di poterti esprimere perché per questione magari appunto di bias cognitivi di razza o di altre cose non ti permette un esempio semplice se una persona viene qui in Lombardia con un accento magari marcato di altre regioni potrebbe essere visto male se va in Irlanda dove non conoscono il fatto che ci siano accenti diversi in Italia si parte da zero la persona ha tutte le opportunità come tutti gli altri quindi c'è una grandissima inclusione anche da questo punto di vista sì 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 assolutamente poi appunto tante cose che ce le imponiamo noi dei limiti che ci imponiamo noi quando veniamo qua crollano completamente quindi mi sto rendendo conto anch'io che ho delle anche solo delle idee diverse no perché magari ce le avevo anche prima però erano più accantonate qui invece riesco a delle cose mie che non c'entrano niente con il posto dove sono però cominciano a mettersi in moto in maniera diversa proprio perché c'hai questa perché non hai quella pressione di idee altrui addosso di idee imposte da altri c'è più spazio tra i pensieri proprio perché il ritmo di vita è un pochino più lento e quindi questi pensieri hanno la possibilità di affiorare e quindi l'umano si sveglia puoi essere in un posto dove fondamentalmente non ti conosce nessuno ti dà una libertà cioè tu puoi fare quello che vuoi cioè puoi andare da uno e dirgli una roba puoi fare quello che vuoi che tanto non ti conosce nessuno quindi questo ti può permettere anche di sperimentare di fare assolutamente è molto interessante questa cosa è una libertà pazzesca che io ho sperimentato anche ritornando qui dove non riconoscevo praticamente più nessuno è sempre una bella cosa dopo un po' si satura questa cosa quindi sempre cambiare luogo però esatto diventiamo solo per questo motivo già è bellissimo però sicuramente ti lascia tanto quindi se uno ha anche proprio dei progetti personali come nel mio caso che vorrei fare delle cose mie non è necessario non è che uno deve venire qui solo se vuole avere un percorso lavorativo professionale preciso di determinante aziende può venire qui lavorare fare le proprie cose però magari lavorare anche alle proprie ai propri progetti perché appunto è fondamentale anche il cambio di mentalità che loro danno una grossa importanza alla balance work life balance quindi ci tengono molto di più che in Italia in Italia c'è ancora mi dicevano la battutaccia di quando le persone lasciano il lavoro alle sei e mezza e c'è quello che vuol fare che sta di più fa oggi mezza giornata accidenti dopo che te ne c'è sempre quello che deve farti sta battuta invece lì no assolutamente sì 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 c'è questa cosa qui ritorniamo al fatto del lavoro del per forza di poi ci sono questi video io non so adesso apro una parentesi che non c'entra fondamentalmente niente però c'è questo video non mi ricordo chi era che criticava il fatto che nella nella sua azienda c'era la gente che si prendeva le ferie perché l'azienda stava andando male quindi prendeva un po' in giro gli italiani lui da italiano sì adesso mi sono ricordato chi è sì mi sa mi sa che era lui mi sa che era lui ma in ferie da cosa quella di Agosto esatto allora io all'inizio un po' ridevo dicevo sì effettivamente però e poi insomma mi sono immaginato ho detto cavolo le ferie da cosa dal lavoro uno magari si è fatto il mazzo così tutto l'anno no c'è la settimana di ferie per me a me fa ridere a me fa ridere che uno abbia una settimana o due di ferie all'anno ad esempio questo a me fa molto ridere perché per me è un concetto che non so per quanto quello è la realtà per gli americani per molti persone giapponesi e quindi c'è e lì tutte le pagine a condividere questo video sì boh questa cosa qui diciamo in Irlanda sì il lavoro è il lavoro e la vita è la vita sono due cose cioè il lavoro serve a vivere per la maggior parte delle persone mentre invece in altre zone d'Italia o magari in più nella mentalità americana o giapponese è proprio l'incontrario sì e quindi ecco qui sicuramente è un po' più soffro si rimette il lavoro al suo posto sì esatto poi c'è il lavoro a lavoro cioè a me se piace il lavoro che faccio è la mia passione lo faccio 20 ore al giorno non mi pesa chiaro sempre lì torniamo a quell'argomento lì certo perché quella diciamo è proprio una vocazione gestita proprio dalla propria passione però chiaramente il lavoro stressante normale da dipendente classico per lo stipendio chiaramente quello deve avere un limite ovviamente certo diciamo che qui è un po' più fattibile ecco da quello che sto vedendo nel mio piccolo lo è come cultura generale anche se l'economia dovesse cambiare comunque la cultura della gente è impostata per cercare di difendere questi questi diritti umani diciamo certo certo assolutamente bene Manuel io direi che l'abbiamo raccontata per bene sì tantissimo valore in questo video quindi ragazzi che avete ascoltato scriveteci i commenti sotto è veramente un'intervista ricca ricchissima di spunti per chi è in questa fase decisionale per chi vuol togliersi i dubbi potete trovare Manuel sul suo canale il suo canale come si chiama Manuel? Manuel Coletto nome e cognome come la carta di identità praticamente bellissimo quindi diciamo è un canale motivazionale con tante storie diciamo di soprattutto in Italia mi sembra che sia stato girato per la maggior parte sì sì per adesso tutto tutto in Italia assolutamente è ancora proprio all'inizio sto sperimentando delle cose quindi bravissimo c'è un bel video dove fa il dj quindi godetevi e niente Manuel io ti ringrazio tantissimo perché veramente hai fatto quello che che serve alla gente sapere e hai fatto veramente ottima informazione hai condiviso grazie a te grazie a te questa storia mi ha fatto super piacere Fabio veramente grazie a te invece grazie e del tutto lavoro che fai perché ripeto utilissimo secondo me è uno strumento potentissimo per chi vuole farsi un'idea oggettiva senza troppe quindi la linea è cercare di raccontare come può essere senza né gonfiare né né sgonfiare insomma cioè la via di mezzo che potrebbe essere quello che succede a chi a chi viene errando bene vale grazie mille per l'apprezzamento grazie a te per essere quindi entrato in contatto con me tramite i video e bene ragazzi spero che l'intervista vi sia piaciuta grazie ancora Manuel e noi ci vediamo nel prossimo video a presto tanto un piacere grazie ciao ciao